e passo ad annunciare il primo dei sei concorrenti di questa mattinata. La prima concorrente è Shibata Ena, di nazionalità giapponese, cittadinanza giapponese, anni 18, che eseguirà nell'ordine di Wolfgang Amadeus Mozart concerto in sol maggiore KV216, primo movimento e cadenza di Isaiè, a seguire lo studio numero 18 delle variazioni presto andante allegretto risoluto allegro moderato dalla tecnica superiore del violino di Rodolfo Lippitzel e a finire di Bach ad agio e fuga dalla prima sonata in sol minore. Sarà accompagnata dal pianista Eugenie Sinalchi. Auguro buon ascolto. Grazie. Grazie. Un attimo di pazienza arriva subito. Un attimo di pazienza arriva subito. Grazie. 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 La seconda concorrente della Mattinatta è Lee Kayen, di Nazionalità e Cittadinanza Sub-Coreana D'AnI 2020, la quale eseguirà nell'Ordine di Joach Sebastian Bach, Grave e fuga dalla seconda sonata in La minore, a seguire di Lipitzer, studio numero 18, variazioni presto, andante, allegretto, risoluto, allegro, moderato, dalla tecnica superiore del violino, e per finire di Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in re maggiore, KU218, primo movimento e cadenza di Joachim, sarà accompagnata dal pianista Ebeni Sinaiski. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Yeah? a tutti.